Il 26 e 27 agosto 2010, nella suggestiva cornice del castello medioevale di Gesualdo, torna l'evento. Torna l'evento. La Proloco presenta Gesualdo Folkhead, settima edizione. Il 26 agosto sul palco, dalle ore 21, i Contaculti. Alle ore 23, i Rione Iunno, Taranta B. Il 27 agosto, dalle ore 21, i Melodia Mediterranea, al ritmo della Tarantella Montemaranese. E alle ore 23, Officina Zoe, in concerto. Gesualdo Folkhevent, un connubio senza precedenti tra Erpinia e Salento. Nelle due serate, stand gastronomici con piatti tipici, birra e tanto tanto altro. Info Facebook, Sodalis Live Folkhevent.